Ci siamo presi un attimo di vestito in queste giornate che ci accompagnano nella nostra attività. Quello che mi sento di dire come riassunto di questa tavola rotonda, come possiamo chiamarla, è che noi abbiamo, come si dice, il termine è narrazione, abbiamo narrato l'esistenza di un patrimonio di conoscenza, di sapere, di professionalità, di volontà, di passione, di organizzazione. Un patrimonio di questa comunità, che è la città di Trieste, è un patrimonio che io personalmente, ma tutti noi non possiamo che riconoscere, sostenere, aiutare e sviluppare. Con questi obiettivi adesso possiamo salutarci tutti e darci un buon lavoro. Grazie.